Nessun colpo di scena al vertice OPEC avviene, il cui esito era pressoché scontato, con il cartello dei produttori di petrolio che ha mantenuto invariati gli attuali livelli produttivi di greggio pari a 30 milioni di barili al giorno. Pochi minuti dopo l'annuncio dello status quo, i prezzi del petrolio sono leggermente risaliti, con il Brent che ha toccato quota 62 dollari al barile. Il plafond di produzione resta lo stesso, ha detto il segretario generale dell'OPEC El Badri. Certo, ha poi aggiunto con una punta di nostalgia, non potremo più avere il petrolio a 100 dollari. Continuare a pompare petrolio ai massimi da 30 anni è una decisione quasi obbligata per l'OPEC, che in questo modo rende difficile la vita ai nuovi player energetici, specialisti dello shawl gas e delle sabbie bituminose, fatti fuori da prezzi non più in grado di offrire margini profittevoli.